La parola che identifica meglio la mia esperienza interna da Turingai è proprio la parola famiglia. Le famiglie quando sono unite possono creare cose molto più importanti come il termine mascolo ci ha insegnato. Da soli si va veloci ma insieme si va lontano. In un team l'esperienza di ciascuno è il tesoro di tutti. Per me è motivo di orgoglio essere stata scelta per far parte di questa squadra. Ho sognato sempre quando sono ragazzino di far parte di un gruppo o di un'azienda di eccellenza come Tony & Guy. Fatta di amore per la qualità e attenzione ad ogni dettaglio. Rappresentare un brand come Tony & Guy in questi 25 anni è responsabilità. Un viaggio dove non si smette mai di imparare. Significa avere la certezza di poter continuare anche ad imparare. Il segreto in Tony & Guy è quello di continuare a crescere. Portare avanti la visione. E di costruire qualcosa di importante. Ho dei ricordi incredibili di quello che era all'inizio e ho la possibilità di vedere dove siamo adesso. È un brand che è sempre più ecosostenibile. È un brand che è sempre più ecosostenibile. Molto attenti sempre alla tecnologia. Una continua crescita, una continua evoluzione. Le sfide più difficili sono state tante. Che ci hanno reso appunto più forti. La sfida più importante è quella che facciamo ogni giorno. Il mio più grosso augurio per il futuro è di rimanere sempre dei pionieri. È sempre un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda la formazione. E stringerci ancora di più. L'unica cosa di cui dobbiamo avere la paura è la paura stessa. Auguri Tony & Guy d'Italia. The best is yet to come.